Oggi parliamo di caffè, ne parliamo con Claudio Cappellini di Mokaiang, un'azienda storica a Pistoia? Sì, un'azienda che ha un esempio e mezzo e che vive nel territorio pistoiese in maniera molto presente, noi facciamo principalmente l'attività del bar, il settore oreca in maniera molto a capillare sul territorio. Da quest'anno presenteremo in fiera alla Toscana in Bocca un nuovo sistema per la famiglia che è studiato per ottimizzare il prodotto nostro, il prodotto del bar anche a casa. La linea che poi magari vi facciamo, vi presentiamo è composta da quattro miscele caffè e tre prodotti che sono orzo e tè al limone. L'idea nostra è quella per portare la nostra esperienza nel settore bar anche a casa. Quindi la macchina è stata studiata e concepita per la migliore estrazione del prodotto. Saremo presente alla Toscana in Bocca con un'offerta molto interessante per il consumatore. Tutte le informazioni del caso le potete trovare sulla nostra pagina Facebook. Non so quando sarei non dal video ma da stasera sarete già in grado di prendere tutte le informazioni del caso sulla nostra offerta. Ecco Claudio, so che avete anche delle novità però per la mopa di casa. Sì, sempre in Fiera presenteremo una novità che nel nostro settore forse poche aziende stanno utilizzando ed è una tecnologia che permette di passare la fase del processo di degasazione per quanto riguarda il macinato con questa nuova confezione che è una confezione morbida come potete vedere che ha una valvolina unidirezionale che permette al gas di fuoriuscire ma non all'ossigeno di entrare e quindi andare poi a degradare il prodotto. Anche questo tipo di prodotto qua sarà presente in Toscana in Bocca e anche sul prodotto proprio per il lancio verrà fatta un'offerta credo interessante anche per la famiglia sempre, sia per chi ha la moja sia per chi ha l'espresso. E ovviamente poi rimane sempre la vostra linea, la vostra distribuzione nei bar, non dico di Pistoia ma nella Toscana a questo punto. Sì, sì, chiaramente l'azienda lavora non solo a Pistoia ma lavora tutta Nord Toscana quindi il nostro punto di forza è sempre il bar, è sempre la presenza sul territorio in molti locali pubblici quindi direi che la nostra intenzione è quella di andare a colpire un po' il consumatore a livello famiglia che forse è il settore che in questo momento è un po' più carente l'azienda. Ecco, so che c'è stato anche un importante riconoscimento perché siete entrato in un gruppo in un'associazione di aziende che raggruppa aziende di qualità italiane che tra le altre caratteristiche hanno anche la operatività da oltre 100 anni. Sì, diciamo da quest'anno l'azienda Nicolai, OIN, fa parte delle unioni storiche, aziende che hanno più di un secolo di attività. non sono molte, soprattutto in Toscana, questo a noi fa un enorme piacere perché riteniamo che sia un grande riconoscimento per l'attività svolta in tutti questi anni e noi considerate che siamo la quinta generazione operativa in azienda. Perfetto, noi ringraziamo Claudio, avremo modo di incontrarlo e di degustare anche uno o due caffè sicuramente alla Toscana in bocca. Ciao e a presto! Vi aspettiamo! Buongiorno!